E adesso ci spostiamo a Maratea che da questa sera diventerà capitale del cinema. Parte la settimana dedicata alla settima arte organizzata dalla Film Commission Lucana. In arrivo nella perla del Tirreno grandi ospiti internazionali. Luigi Di Lauro. E già a Maratea Paolo Sorrentino, il regista napoletano premio Oscar per il film La Grande Bellezza, sarà uno dei protagonisti delle giornate del cinema in Basilicata, in programma da oggi e fino al 29 luglio prossimo. Cinque giorni di appuntamenti dedicati al cinema italiano e internazionale, con le stelle del grande schermo. Un set, quello delle giornate del cinema, allestito a Fiumicello in Piazza del Gesù, con la costa tirrenica a fare da sfondo, tra dibattiti, proiezioni e confronti, e importanti anteprime nazionali, come l'attesissimo Ghostbusters di Paul Feig, anche al premio Basilisco 2016, che andrà agli artisti che hanno contribuito a fare grande il cinema italiano. Il via ufficiale all'evento questa sera, con l'annullo filatelico dedicato alla manifestazione, è il primo dei tre momenti riservati al cinema lucano, con una rassegna di cortometraggi made in Basilicata, curata dalla Lucana Film Commission, promotrice della manifestazione sotto legida della regione Basilicata, e in collaborazione con il comune di Maratea. Una settimana da non perdere, assicurano gli organizzatori che hanno presentato l'evento nel corso di un incontro con i giornalisti, oltre al premio Oscar Sorrentino, in arrivo nella Perla del Tirreno, Carlo Verdone, Rocio Mugnoz Morales, Maria Sole Tognazzi, Manuela Arcuri, Gio Ciampa e Claudio Santamaria. Il cartellone prevede anche una tavola rotonda, a cui prenderanno parte esperti di cinema e dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali. Una manifestazione di alto livello è stata detta nel corso della presentazione, mirata alla valorizzazione della nostra regione, ma soprattutto al talento dei giovani lucani, ai quali la presenza di eccellenze del cinema italiano e internazionale offrirà sicuramente un'opportunità di crescita professionale. Sarà presentato in anticipo...